Da pochissime ore si festeggerebbero i 4 volte 20 anni di Raffaella Carrà, perché 80 non si dice, però si dice 4 volte 20. Quindi sicuramente averti riconosciuto a Far l'amore con il Tattoo, brano del 1975, che è la vita protagonista. E quindi insomma, tra poche ore è tempo di spesare i suoi 4 volte 20 anni di una persona che ci manca, è vero perché ci manca fisicamente e non ci puoi negarlo, però sicuramente è rimasto e rimarrà nella storia. E quindi ovunque sia, diciamo, augurirà, perché comunque la pensiamo qua con noi, insomma. E quindi insomma amici, celebriamo la nostra più grande subreddita che abbiamo avuto e che continueremo ad avere comunque, perché la vediamo sempre nei riflessi filmati, nelle techerai e ovunque si riesca a parlare di Raffaella. Tra l'altro di queste canzoni, anche questa è quella che io ho cantato in passato, ricorderete. E quindi insomma è un modo per celebrare ancora una volta una delle icone sexy degli ultimi 61 anni di televisione. Anche se sappiamo tutti che si guarda dalla su, ma ne siamo comunque orgogliosi di averla conosciuta ed avuta sulla terra. Ed ora sento un po' di pubblicità e poi ci saranno altri brani di Raffaella. E così insomma. Questo altro successo invece è un saluto per me. che ho anche io due stato tempo fa. Quindi amici, ricordiamo questo cantone. Ciao. 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 Questa invece è la mitica tanti auguri per anno del 78, simile di Marchesera, che tutti voi conoscete. Questa invece è la conoscete. E quindi, insomma, amici, abbiamo, diciamo, celebrando come si deve roba in La Carrà. Non è la prima diretta che facciamo dedicata a lei, ma è giusto farlo perché, tra poche ore, sarebbe stato il suo quattro volte venti anni. Grazie. 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 Scritto da Guido Mori e Ferilli ed arrangato dal grande Ciai Saturo. Scritto da Guido Mori e Ferilli ed arrangato dal grande Ciai Saturo. Scritto da Guido Mori e Ferilli ed arrangato dal grande Ciai Saturo. Scritto da Guido Mori e Ferilli ed arrangato dal grande Ciai Saturo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché non saremo connessi per qualche ora insieme a voi. Un abrazzo a tutti, una buona serata e un buon sabato a tutti.